A tre anni dall'approvazione della legge di riorganizzazione del Servizio Sanitario Toscano del dicembre 2015, la Giunta regionale ha deciso di riorganizzare con l'approvazione di tre delibere i rapporti tra le aziende sanitarie Toscana Centro, Toscana Nord-Ovest e Toscana Sud-Est e Estar, l'ente di supporto incaricato di gestire gare, concorsi e progetti di sviluppo. Primo obiettivo, snellire il lavoro di Estar a partire dagli acquisti di materiale sanitario. Siamo andate a modificare il regolamento di Estar e a riassegnare alle aziende sanitarie, in modo più preciso ai direttori di zona e anche ai direttori di presidio ospedaliero, la possibilità di effettuare in autonomia piccoli acquisti fino a 40.000 euro, nell'ambito di un budget complessivo dell'1% di tutti gli acquisti di Estar, che ammonta comunque a 20 milioni di euro, quindi è una cifra importante. Le aziende potranno acquistare solo alcune categorie di merce, come piccole attrezzature e strumentario chirurgico, mentre farmaci e vaccini restano in capo a Estar, che mantiene comunque il controllo anche sui beni a basso importo, in vista della creazione di un mercato elettronico toscano per gli acquisti sanitari. Concentrandosi Estar sulle gare, diciamo così, quelle tradizionali e non sui piccoli acquisti, dove il valore tecnico e anche strategico è molto modesto, potrà consentire quindi di poter acquistare più velocemente, mi auguro, e anche con strategie di gara, soprattutto sfruttando le gare innovative. Gli altri provvedimenti adottati dalla Regione ridefiniscono da un lato la nuova governanza aziendale, in particolare per i ruoli di direttore di dipartimento, direttore di zona distretto, società della salute e direttore di presidio ospedaliero, e dall'altro il nuovo tipo di accordi tra Estar e aziende sanitarie.